Movinco diventa una piattaforma a tutti gli effetti, rimane nella sua modalità finale un concorso, tant'è che appunto abbiamo già annunciato un membro importante della giuria, ma di fatto per tutto l'anno funziona appunto come una piattaforma. Cosa vuol dire? I ragazzi si iscrivono in questa piattaforma, vengono selezionati e quindi ammessi nella piattaforma dall'organizzazione di Movinco, una volta che vengono ammessi in questa piattaforma, quindi senza compilare e partecipare ad un vero e proprio bando di concorso, ma iscrivendosi e mandando la propria candidatura. Una volta che vengono ammessi appunto in questo network, in questa piattaforma online, vengono poi abbinati alle aziende. Ogni azienda avrà a disposizione tre ragazzi che vengono appunto abbinati per un ragionare e diciamo scrivere un'idea sulla base di un brief, quindi incontreranno tutti e tre l'azienda, faranno tutti e tre un trattamento di quello che ritengono più opportuno presentare appunto all'azienda e poi l'azienda sceglierà quale dei tre portare avanti, qual'idea portare avanti per la realizzazione del video. Gli altri due ragazzi che non vengono scelti in quell'occasione possono comunque rimanere nella piattaforma e magari essere abbinati un mese dopo, due mesi dopo ad un'altra azienda, perché come diceva Massimo non ci sono più dei tempi tecnici secondo i quali appunto ci si iscrive entro il e ci viene abbinati entro il, ma ci si può iscrivere tra una settimana e essere abbinati tra un mese, tra due settimane o tra due mesi, quindi non c'è più un tempo rigido come era prima nel bando di concorso. Questo vuol dire per l'azienda ovviamente avere il video in tempi molto diversi e magari più utili anche ai propri fini e per i ragazzi vedere subito magari il fatto che appunto ci si iscrive e poi intanto si inizia a lavorare e non aspettare appunto quei cinque, sei mesi per essere contattati. Cambiano anche le modalità del rimborso per i ragazzi che si iscrivono alla piattaforma Movie & Co e che vengono effettivamente abbinati e che quindi lavorano effettivamente per l'azienda, in tutto il rimborso per i ragazzi sarà di 1300 euro con 500 euro dati nella preproduzione e 800 euro dati a conclusione del lavoro, questo per consentire anche a loro di eventualmente noleggiare delle attrezzature o comunque impegnarsi anche in trasferte, produzioni un po' impegnative e avendo diciamo un contributo subito per poter iniziare a lavorare non dovendo anticipare le spese.